Musica Da qui inizia il progetto Fini House Sonia e Canigia Tempo a 200 metri dal centro e a 300 metri dal mare Sonia in Canigia Fini House In questa quinta parte vi presenteremo come vedete la nuova produzione di pomodorini che sta crescendo incredibilmente con grande soddisfazione E proseguiremo con il muro di contenimento un piccolo muro di contenimento con pietre naturali che abbiamo ricavato dalle Ahimè dure o pure di picconate Non è certamente il mio mestiere però amo direttarvi in queste nuove tecniche Vediamo i risultati più avanti non saranno certamente eccellenti ma perlomeno sarà una soddisfazione personale Qualche professionista mi sta prendendo in giro però mi sto divertendo Quindi infine il terzo lavoro di questa quinta puntata è il proseguimento della stazionata la parte dell'ultima parte che mancava un po' alla volta non abbiamo fretta e vedremo i risultati più avanti Siamo nel periodo della quarantena per il coronavirus e ho un po' di movimento qui all'aria aperta ci fa molto bene le palestre sono qui chiuse e quindi un po' di picconate non fanno male anche se ci dà uno al massimo I'm more than I could take Pity for pity's sake So nice can't be awake I thought that I was stronger When you gonna realize That you don't leave love to try any longer Do what you want to Girl put your records on So tell me your favorite song Go ahead, let your head down Sapphire and faded jeans I hope you get your dreams Just go ahead and let your head down Go put your records on Tell me your favorite song You'll go ahead and let your head down Sapphire and faded jeans I hope you get your dreams Just go ahead and let your head down You'll go ahead and let your head down You'll go ahead and let your head down You'll go ahead and let your head down Oh, really, really Grazie a tutti.